Un saluto a tutti ed eccoci qui pronti per l'estrazione per il giveaway che avevo proposto un paio di giorni fa Purtroppo sono in ritardo di un paio di giorni sull'estrazione ma ho avuto dei problemi tecnici personali quindi non potevo fare i video in questi giorni Tutti i video che ho caricato erano fatti in precedenza Sperare una partecipazione proprio numerosa, alla fine hanno partecipato 10 persone per 7 titoli Quindi alla fine sono 10 commenti con scritto partecipo Quindi alla fine solo 3 saranno alla fine i disfortunati che non vinceranno Partiamo subito, ho deciso che una persona non vincerà lo stesso premio 2 volte Quindi, allora qui sono le prove che ho fatto, resettiamo Quindi quantità di numeri da estrarre facciamo 10 No ho sbagliato scusate, 7 Numeri fra 1 e 10 Ok, genera Quindi 3 1, 2, 3 Bobbi Auditore Sei il fortunato che hai vinto Miros Edge Quindi Bobbi Auditore hai vinto Miros Edge Complimenti Ok, poi 10 1, 2, 3 4, 5 6 No aspetta ho sbagliato 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 Perché sono 9? Ho sbagliato No, mi dico che ho sbagliato Non ho sbagliato Ne avevo guardati 10 prima 1, 2, 3 4, 5 6 Ah, 7 8 9 10 Comunque De Bulli 2, 1, 1 Hai vinto una copia di Conquer and Conquer Quindi De Bulli hai vinto questo Complimenti Poi 2 1, 2 Warrior Hai vinto a Dead Space 1 Complimenti Complimenti Poi 5 1, 2, 3 4 5 Schiavo Hai vinto Burnout Paradise with the Ultimate Box Complimenti anche a te Vediamo chi poi vincerà Battlefield 3 7 1, 2, 3 4 5 6 7 Mr. Lloyd Hai vinto una copia di Medal of Honor Complimenti anche a te Poi 7 9 Quindi andiamo da quello di Lloyd Legiorar Napoli Hai vinto una copia di Crysis 2 Quindi Legionar Hai vinto questo Anche a te Complimenti E adesso l'ultimo E penso che sia il più fortunato se non ce l'ha 6 Quindi partiamo dal fondo Potremmo stare a 10 10 9 8 7 6 Vincenzo Crick Hai vinto la copia di Battlefield 3 Quindi complimenti Complimenti Sei stato il più fortunato dell'estrazione Quei giochi Non erano tanti Cioè erano tanti Ma di poco valore Visto il prezzo con cui li ho trovati tutti insieme in un bundle Alla fine che non hanno vinto Non hanno vinto Sala Official Sticky C E Ah e Ruben Capelli Per voi tre mi dispiace siete stati particolarmente sfortunati Spero di non aver sbagliato i numeri nell'estrazione Ho fatto tutto in diretta E Niente Spero che questo piccolo premio vi sia piaciuto e vi sia gradito Mi scuso ancora per il ritardo Provvederò nelle prossime ore di spedire una mail con il codice Con le vittorie Con il titolo vinto Un saluto a tutti da TheBall225 Un saluto a tutti da TheBall225